E' sicuramente un'emergenza, questa in particolare perché riguarda la vita delle persone. Poi c'è un'emergenza legata all'agricoltura, c'è un'emergenza legata a tante altre cose, però questa è una vera emergenza dimostrata dal fatto ultimo di ieri. Sarebbe stato un capriolo a causare il drammatico incidente di mercoledì pomeriggio a Castiglionfibocchi in cui è perso la vita un bambino di 4 anni, un frontale tra un camion ed un'auto in cui si trovava il piccolo con la madre. La donna avrebbe perso il controllo della vettura per evitare l'animale che aveva improvvisamente attraversato finendo così per schiantarsi contro il camion. Sono animali che sono difficilmente controllabili, hanno trovato un territorio dove poter pascolare in maniera, non dico indisturbata ma quasi, è stato lanciato i lupi. I lupi cosa fanno? Non vivono nelle città, vivono nelle montagne e gli animali predati, cioè caprioli e cindiali, non stanno dove ci sono i predatori. Ecco perché gli animali vengono sempre di più nelle zone abitate, conseguentemente vicino alle strade, vicino alle città. Si tratta del secondo drammatico incidente nell'arco di poco più che un mese causato da un ungulato. Lo scorso novembre infatti un settantenne morì travolto da un autobus. L'anziano si trovava lungo la strada regionale 69 sul ciglio della carreggiata per spostare un capriolo investito. Per i caprioli in particolare, fino a qualche anno fa, era consentito di uccidere le femmine e i piccoli anche nel periodo estivo. Adesso ai cacciatori di selezione gli è impedito di ucciderli in quel periodo, conseguentemente la loro caccia si svolge nel periodo invernale quando gli animali, sempre caprioli, sono stressati, quindi ne viene uccisi di meno. Ecco, secondo me una prima soluzione che potrebbe essere immediata è cambiare e consentire a cacciatori di selezione di aumentare il numero degli animali e di ridargli la possibilità di ucciderli d'estate. Sono indispensabili i cacciatori e sono indispensabili leggi che devono drasticamente diminuire la presenza di questi animali. Non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare.